Il giornale moderno, un giornale che nasce a Scalea, ma un giornale che ha risonanza nell'ambito regionale e interregionale. Siamo in compagnia del direttore di questo giornale, che è Nando Mango. Direttore, quando nasce questo giornale, come nasce la passione per il giornalismo? In un periodo post bellico, fondato da mio padre Mario Mango, la passione logicamente me l'ha trasmessa lui, perché da piccolo io lo vedevo cimentarsi dalla mattina alla sera vicino alla macchina da scrivere, preparare i pezzi che poi doveva mandare al giornale. Molte volte andavo con lui al centralino, dove bisognava aspettare a volte delle ore per prendere la linea con le varie testate, e per mantare il pezzo, fare lo spirito, perché non si sentiva bene, non si sentiva come oggi, diciamo, che puoi parlare anche da una parte all'altra dell'oceano senza avere problemi. Era molto più difficile, bisognava scantire le parole, lettere per lettere, quindi lui mi ha trasmesso questa passione. Sono diversi gli appuntamenti che sono stati seguiti dal vostro giornale e dalla vostra redazione, a volte si toccano delle tematiche forti che riguardano anche alcuni interessi personali, quindi quel giornale punta alla trasparenza, quando conta la trasparenza rispetto al rapporto personale? La trasparenza conta tantissimo, come tantissimo conta la credibilità. Io penso di aver fatto un prodotto giornalistico veritiero, trasparente e, come hai detto, credibile. Al di là, poi il fatto di toccare interessi personali poco mi riguarda, io devo fare gli interessi alla città. Io devo mettermi, devo mettere la coscienza a posto, trattando argomenti che riguardano la cittadinanza tutta. Cioè devo fare gli interessi della città, del singolo mi interessa ben poco. Sono diverse le tematiche toccate, anche dal punto di vista politico e amministrativo, come ricordiamo il porto di Scalea, zona industriale e tanti altri appuntamenti che hanno toccato le varie situazioni, i vari scenari politici, di minoranza e di maggioranza. La posizione di Diorgene su questo? Certamente noi siamo sempre vigili e attenti su quello che accade, sui progetti pure del comune, della città. logicamente il porto, noi già dalla prima ora siamo stati sempre propensi a favore del porto, al di là del sito, però Scalea è come ha bisogno di alcune piazze, di alcune vie che vanno fatte a costo di toccare l'interesse particolare del singolo, però le opere vanno fatte, sennò la città non cresce, la città si ferma. Qual è la posizione editoriale di questo giornale? La posizione editoriale? Non so che cosa si intende per posizione editoriale. Dal punto di vista politico, dal punto di vista ideologico, che posizione è? Vabbè, noi cerchiamo di fare un giornale che abbracci non particolarmente una parte politica o tralasciando un'altra, no, a noi interessa fare un giornale per gli scalevoti principalmente, che poi il giornale va spedito a Roma, a Milano, a Torino, fuori in azione e poco conta, però quello che conta è dare un prodotto sempre al passo coi tempi. Il fatto editoriale, la parte politica, l'idea nostra politica, sicuramente non facciamo del qualunquismo, un'idea la abbiamo, però cerchiamo di farla frappelare quando meno è possibile. Desta paura o timore l'uscita puntuale di un giornale come il Diogene, che fa, diciamo, anche, mette, diciamo, il dito, punta il dito nei riguardi di alcune situazioni e quindi lì fa poi giornalismo? Ma non penso. Il Diogene va letto con serenità e con tranquillità. Se uno riesce a leggere, mettendo da parte tanti pregiudizi, con tranquillità e serenità, si accorgerà che è un bel giornale, un giornale non di parte, è un giornale nato per la crescita culturale, civile e sociale del nostro territorio di Scalea. E logicamente può darsi pure che qualcuno in questo si senta toccato, ma ha poca rilevanza. Quello che conta è che la maggior parte, la stragrande maggioranza di Scalea, di cittadini, dei lettori, siano, come mi viene riferito spesso, non vedono l'ora dell'uscita del giornale. Infatti io certe volte nel giornale, dopo tre giorni, quattro giorni, mi incontrano dei lettori, dei soci, e mi dico, ma quando esce il prossimo, quando era bello, quando uscirà il prossimo numero? Questo mi interessa a me, questa gente qua. Poi quelle due o tre persone, magari che non si comportano nemmeno da persone, tra virgolette, poco mi interessa. A me mi interessa quella parte sana, che è la stragrande maggioranza della città. È difficile fare giornalismo, fare un giornale, ne abbiamo visti diversi giornali e giornaletti arenarsi dopo poche edizioni. I di oggi ne sono anni, abbiamo ripetuto, che è dal 1996 che ha una riedizione, ma è seguito anche all'esterno, con i soci. Io non voglio entrare nel merito giornalistico e editoriale di altri testati prettamente locali, però so che da quando c'è il di oggi, forse 10-12 testate nuove sono apparse come meteore sparite dopo poco o nel nulla. Sicuramente c'erano altri interessi. Al di là della notizia, del fare notizia, dell'informazione, c'era sicuramente un fattore politico e quando c'è un fattore politico non so, perché sei seguito magari da quella piccola percentuale e non sei seguito da quella grande percentuale. La gente, mi sono accorto in tanti anni, in 12 anni in interrottio, poi ho scritto 30 anni ancora per altre testate, però da 12 anni che scrivo e dirigo il di oggi, mi sono accorto che la gente è stanga della faziosità, è stanga delle polemiche continue, la gente vuole vedere progetti realizzati, vuole vedere che la città progredisce, progredisce giorno dopo giorno, altro non interessa. I giornali regionali hanno anche dei finanziamenti al loro supporto, un giornale locale non ha molte possibilità di accedere a questi finanziamenti, quindi quale può essere un sacrificio da parte vostra? Niente, perché se vuoi fare un giornale come il Diogene non devi avere finanziamenti regionali, provinciali o statali, non devi avere niente, non ti devi regare nessuna parte politica. Logicamente la cultura va premiata al di là del fattore politico, quindi come ogni testate che si rispetti, anche noi di oggi ne avremmo diritto di avere qualcosa per quanto riguarda la cultura, perché quando fai un giornale in primis fai cultura. Però a noi interessa andare avanti come lo stiamo facendo da 12 anni, cioè con i soci che ci sostengono e con i lettori. Poi riusciamo a fare lo stesso, al di là dei grossi finanziamenti oppure delle prebende che possono avere altri. Quali sono le sinergie di redazione e di collaborazione che sono a fare? Io ho un gruppo, diciamo, ormai da oltre 10 anni fidatissimo, sono 7-8 persone che collaborano in redazione e queste persone veramente sono gli assi portanti, sono i pilastri della redazione, perché quello che faccio io è tutto fatto bene, al di là del fatto che noi spesso abbiamo dei punti di vista, ognuno dice la sua, ci mancherebbe, però noi basta uno sguardo e ci capiamo. E poi ultimamente sono felice di avere con me un ragazzo come te, direttore di Cal News, perché forse di oggi in questi anni pensava più ai contenuti, però con l'entrata di Cal News noi abbiamo raggiunto pure quella parte tecnica, il massimo proprio, tecnicamente parlando, che forse mancava al di oggi, quindi sono contento di lavorare con un ragazzo come Luigi Sassini. Quale può essere un appello al lettore proprio per invogliare questo modo di leggere, questo modo di fare cultura? Ma no, ma nessun appello, il di oggi ormai lo conoscono un po' tutti, ne parlano tutti, non c'è bisogno di fare appelli, il giornale va da solo ormai, cioè il diogeno è un attestato ormai, come si so dire, un vecchio spot, diceva un nome, una garanzia, è una forza della natura a scalare il diogeno, quindi sono tranquillo, sono sereno e sono felicissimo di aver raggiunto i risultati che ho raggiunto.